eccoci qua benvenuti in questo nuovo video ci troviamo in gta 5 online e oggi andremo a fare a continuare la nostra serie delle rapine quindi andremo a rapinare un altro negozio oggi guardate qua ho cambiato macchina ho preso la turismo r guardate che bella ditemi anche voi se vi piace nei commenti ragazzi e ora il segnalino l'ho già messo verso il nostro negozio da rapinare e andiamo con questa supercar dove ho pagato il superbollo prima come fosse nella realtà e ora speriamo bene in questa rapina ma porco cane o poteva aspettare un attimo a girare no mi deve far fare i numeri eccoci qua nel nostro negozio allora questa pronta qua e noi entriamo c'è qualcuno dentro sì io direi di farli uscire anzi no un bel negozietto però questo eh c'è tanta roba l'indiano qua buonasera vorrei i soldi dammi i soldi veloce perché se no arriva la polizia dai un paio di occhiali non mi piace ok grazie per il sacchetto mille euro e no no mille e novanta e ora direi di darci via la fuga via via la fuga via 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 beh due stelle questa rapina è da poco dai di solito erano già tre stelle stanno già lampeggiando anche quindi di là ne incontriamo un altra facciamo sta fuga grandi curve per questa gran turismo ditemi voi ragazzi se volete vedere qualche macchina intanto l'abbiamo scampata quindi questa rapina è andata a buon fine e quindi questo video anche dopo questa splendida rapina super veloce con fuga altrettanto dicevo ditemi voi ragazzi se volete vedere qualche macchina modificata che vi piace che magari la posso prendere e andarla a modificare insieme a voi facendovi un video quindi niente ragazzi per questo video di questa rapina è tutto iscrivetevi al canale commentate mettete un mi piace al video anche alla pagina facebook che vi lascio come sempre in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video